pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati seconda domenica del tempo ordinario inizia il cammino dei primi discepoli dietro gesù nella prospettiva di giovanni il vangelo tra le tante chiavi ce ne consegna una preziosa ogni vera esperienza di gesù comprende integra una dimensione personale e una comunitaria vediamo in particolare tre passaggi accogliere un annuncio stare con cristo e far esperienza di lui annunciarlo a nostra volta la prima lettura fa da sfondo al vangelo abbiamo la chiamata del giovane samuele che diventerà profeta e giudice di israele samuele si sente chiamare nel sonno ma non capisce che si tratta del signore finché il sacerdote eli dopo la terza volta gli dà l'indicazione giusta se ti chiamerà dirai parla signore perché il tuo servo ti ascolta samuele ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a capire come dio sta parlando alla sua vita ha bisogno di qualcuno che gli dia la password per connettersi al wifi divino questo ci introduce al vangelo da dove parte l'avventura dei primi discepoli da giovanni il battista che vedendo passare gesù lo indica e dice loro ecco l'agnello di dio dunque giovanni annuncia loro gesù e dice loro chi è gesù l'agnello di dio un termine biblico molto significativo richiama la pasqua dell'esodo ricordate il sangue dell'agnello posto sugli stipiti delle porte salvò gli israeliti dall'angelo della morte e quella notte il popolo schiavo divenne libero richiama gli agnelli immolati nel tempio di gerusalemme rimanda alla mitezza e al misterioso servo di cui parla il profeta esaia giovanni dunque parla di gesù in modo profondo bello ecco colui che mite mansueto viene a salvarci viene a farsi carico del nostro male viene a dar la vita per noi allora vedete miei cari samuele ha bisogno di eli ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a capire come dialogare con dio i primi discepoli hanno bisogno del battista che gli indichi gesù e gli aiuti a coglierne la bellezza dopo pietro avrà bisogno di andrea che gli parli di gesù e lo conduca a lui ecco la dimensione comunitaria dell'esperienza di fede la fede è un dono che abbiamo ricevuto mediante il battesimo che ci è stato comunicato dalla chiesa se siamo diventati credenti e perché qualcuno ci ha parlato di gesù perché in qualche modo ci ha mostrato il suo amore sempre di nuovo abbiamo bisogno di chi ci rievangelizzi il cuore mediante l'annuncio della parola abbiamo bisogno di un confessore in determinate tappe della vita abbiamo bisogno di qualcuno che ci accompagni spiritualmente non per imporci cosa fare ma per aiutarci a discernere come parla il signore alla nostra vita come andargli dietro per arrivare a cristo dobbiamo scegliere le mediazioni umane giuste anche nella vita spirituale i monaci antichi dicevano che già metà problema o tentazione lo risolvi quando apri il tuo cuore con il confessore con il padre o la madre spirituale a chi insomma nel nome del signore ti può aiutare miei cari non ci sarebbe stato il profeta samuele senza il povero sacerdote eli non avremmo avuto simon pietro senza il fratello andrea non avremmo avuto i primi discepoli senza il battista abbiamo bisogno degli altri e gli altri per arrivare a gesù in qualche modo hanno bisogno di noi la salvezza è personale cioè personalmente si risponde a gesù e lo si accoglie ma non ci si salva da soli ci si salva insieme ma perché il signore ha pensato a tutto questo non era meglio un rapporto diretto tipo wifi non era più facile se il signore mi parlasse direttamente sempre chiaramente al cuore non sarebbe stato meglio non aver bisogno di nessuno no ecco il punto il signore vuol tirarci fuori dalla nostra autosufficienza dal nostro individualismo e vuole insegnarci a camminare insieme il cristianesimo non è una sorta di ikea dell'anima così fai da te dello spirito ma si cammina incordata io ho bisogno del fratello della sorella che mi rivela me stesso e che diventa parola di dio per la mia vita il mito moderno è quello dell'uomo che non deve chiedere mai la super donna autonoma che inganno io ho bisogno dell'altro che sia aiutato dall'altro che sia corretto dall'altro che sia salvato dall'altro lo scopo della salvezza miei cari è proprio questo insegnarmi a stare con gli altri a vivere in comunione con gli altri se penso di seguire cristo ma mi sto isolando sempre di più da tutti se sto pensando di andare dietro a gesù ma non sto imparando ad amare gli altri se sto cercando gesù ma non cerco mai gli altri beh una domanda me la devo fare ma sto seguendo il cristo vero reale incarnato o il cristo proiettato nelle mie idee o nelle mie fantasie allora miei cari primo punto ogni vera esperienza di cristo ti chiede di accogliere il suo annuncio e di camminare insieme agli altri di essere dunque chiesa ed ecco il secondo passaggio fare esperienza personale di gesù giovanni indica ai discepoli gesù che passa è un'immagine molto bella a cui siamo devoti nella nostra comunità della via gesù viandante gesù in cammino non lo puoi mettere in tasca ma sei chiamato a seguirlo i discepoli potevano restare lì fruendo solo l'indicazione del battista e invece no iniziano ad andargli dietro è un punto importante io posso accogliere mille annunci ascoltare catechesi omelie consigli ma restare fermo lì oppure posso mettermi in cammino osare fare un passo in quella direzione ed è proprio così che mi metto nell'occasione di esperire quanto ricevuto perché miei cari la vita cristiana è dinamica e lasciarsi scomodare e mettersi in discussione e ascoltare custodire e mettere in pratica ciò che si è sentito anche in un cammino di discernimento non si fa discernimento stando seduti a tavola ma mettendosi in cammino un passo dopo l'altro i discepoli iniziano dunque a seguirlo Gesù si volta e chiede loro che cosa cercate va dritto al cuore al nostro cuore cosa cerco cosa mi sta profondamente a cuore per me cosa conta davvero a Gesù interessa che andiamo in profondità ma cosa cerchi me o altro mi vieni dietro per il tuo tornaconto o perché ti interessa la salvezza per sentirti buono o per diventare buono per fare carriera o per farti santo per essere in vista o perderti e dar la tua vita che cosa cerchi la risposta dei discepoli è un'altra domanda maestro dove dimori che non vuol dire ma in quale anfratto vivi in via dei carpentieri numero 5 no in Giovanni il verbo dimorare è un verbo importante relazionale dove dimori dove stai di casa tu cammini ma dove poggi il tuo cuore venite e vedrete ecco la risposta di Gesù Gesù non dà spiegazioni offre un'esperienza state con me e i discepoli andarono e rimasero con lui dialogano con lui lo ascoltano sarà un'esperienza così forte che rimarrà loro impresso persino l'orario le 4 del pomeriggio l'ora in cui venivano immolati gli agnelli nel tempio esistenzialmente ci dice che quando fai veramente esperienza di Cristo quel momento si incide nel tuo cuore quando il Signore ti chiama quando tocca la tua anima tu porti dentro quel momento inciso a fuoco nel tuo cuore sono le perle preziose della nostra vita della nostra vocazione che mai dobbiamo dimenticare dunque quali sono quei momenti significativi che ho vissuto nella mia vita quali sono i fondamenti della mia chiamata e dove dimora Cristo dove lo trovo quali sono quei luoghi dove mi sento a casa dove vedo che il Signore mi aiuta a crescere nella fede vanno cercati e custoditi dunque mi cari come vediamo l'esperienza dei discepoli è partita dall'accogliere un annuncio quindi si sono messi in cammino hanno fatto esperienza di Gesù entrando in intimità con lui a questo punto terzo passaggio annunciano a loro volta Andrea va dal fratello e gli annuncia abbiamo trovato il Messia Andrea non spiega per filo e per segno chi è Gesù ma conduce Pietro da Gesù miei cari la bocca parla della pienezza del cuore se io davvero l'ho incontrato se davvero ho a cuore il Signore se davvero sto facendo esperienza che è bello star con lui è bello camminare con una comunità beh non potrò tenerlo per me tanti hanno bisogno delle nostre parole della nostra testimonianza per aprirsi al Signore ma gli altri vedendoci e ascoltandoci sono invogliati a farlo ed è questa esperienza personale e comunitaria che ti cambia proprio come accadda Pietro che a sua volta accoglie l'annuncio di Andrea è arrivato davanti a Gesù fa esperienza di lui e si sente addirittura cambiare il nome da Gesù tu sei Simone il figlio di Giovanni sarai chiamato che fa che significa Pietro nel mondo ebraico il nome indica l'identità la missione Gesù cambia la missione di Pietro come a dire cambia la sua origine da un orientamento nuovo alla sua vita Gesù rivela a Pietro chi è veramente perché è questo che fa l'incontro con Cristo ti rivela a te stesso chi sei veramente svela ciò per cui sei nato per amore e per amare con una missione speciale che solo tu puoi scoprire e realizzare cari fratelli e sorelle che il Signore ci aiuti a riscoprire la matrice di ogni vera esperienza di Cristo che coniuga dimensione comunitaria e dimensione personale accogliendone l'annuncio facendo esperienza di lui mettendoci in cammino a nostra volta per testimoniare agli altri quell'amore immenso che abbiamo incontrato e che man mano ci ha cambiato che il buon Dio vi benedica pace e bene a tutti